Fin dalle prime ore del tragico sisma noi ci siamo immediatamente costituiti col tavolo tecnico, il sindaco ha tutto allertato tutte le attività, io ho coordinato i tavoli. Adesso siamo in contatto costante anche a 24 con la sala operativa regionale, con l'ANCI, il coordinamento nazionale, quindi c'è tutta una filiera che sta predisponendo le variazioni. Noi abbiamo subito dato la nostra disponibilità, come del resto tutte le altre province, la regione, davvero una grande prova della nostra regione, della città di Napoli, ma del resto d'Italia e siamo all'interno della cornice della protezione civile nazionale che coordina il tutto in modo da evitare sovrapposizione e da fornire effettivamente quello che serve. Siamo in prontezza operativa con la nostra protezione civile e con le colonne dei volontari, abbiamo predisposto tutto quanto è potenzialmente necessario, aspettiamo il via libera. Nel frattempo abbiamo anche attivato un tavolo tecnico che coordino io presso il mio assessorato che è in costante e monitoriamo tutto quello che possono essere le richieste o l'evoluzione della tragica situazione.